L'assessorato al Comune di Colzate sta preparando, anzi ha preparato tanti eventi che ci introducono nell'atmosfera natalizia e che si svilupperanno per tutto il mese di dicembre. In che cosa consistono in particolare? Sì, allora cominceremo questo sabato, sabato 3 dicembre con una caccia al tesoro proposta organizzata dai commercianti e artigiani di Colzate. Successivamente giovedì 8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, ci sarà la corsa dei Babbi Natale organizzata dal gruppo sportivo di Semonte. Quest'anno si parte da cene e noi a Colzate siamo dalla parte opposta dei cinque comuni e arriveranno praticamente i concorrenti in un percorso circolare. Sempre 8 dicembre a Colzate il pomeriggio avremo l'inaugurazione della mostra di pittura del circolo artistico colzatese, si apre l'8 dicembre e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 fino al 24 dicembre. Altro evento importante, il secondo anno che si fa a Colzate nel periodo natalizio è il Natale a Bondo organizzato dal circolo Vagabondo dove ci sarà per le vie del borgo, ci saranno mercatini però di hobbysti e di artigiani e ci sarà un concerto della Aurobic Pipe Band, quindi cornamuse e tamburi. Arriverà Babbo Natale. Il 24 di dicembre vigilia di Natale a Colzate in piazza alla casetta di Babbo Natale, arriverà il Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bimbi, dare dolci in attesa del Natale. Ci saranno anche sempre in quel giorno i gonfiabili e un mercatino, gonfiabili per i bambini in palestra e un mercatino ancora di artigianato. Concluderemo il giorno della Befana sempre in piazza di Colzate alla casetta di Babbo Natale con la lettura di fiabbe animate. Dimenticavo, cosa importante, il sabato 17 dicembre il classico concerto di Natale del nostro corpo bandistico musicale presso la palestra dei Colzate. Ritengo un programma corposo, interessante e spero piacevole, possibile soprattutto grazie al lavoro di molti volontari e all'apporto anche di commercianti e artigiani che nonostante il periodo sicuramente poco felice della nostra economia hanno contribuito in maniera significativa per la fattibilità di questo progetto. Grazie.